ho un prodotto nuovo per la pulizia della casa tutto questo ben di dio si chiama dreamy z10 station se prima c'erano le scope elettriche adesso ci sono anche gli hub le stazioni di autosvuotamento che supportano la scopa e aspirano tutta la polvere contenuta in essa quindi ancora più comodo fare le pulizie di casa ve ne parlo in questa recensione completa ed eccolo qua ragazzi tutto il contenuto della confezione della dreamy z10 station un casino di roba cominciamo dal corpo principale motore da 481 watt con sfiato e sfiato quindi il sfiato laterale serbatoio della polvere da 0.5 litri mezzo litro e tutta questa base che ha connettori qua per andare a dialogare per andare a connettersi con la hub che poi svuoterà tutto lo sporco abbiamo anche la batteria oltre al grilletto batteria rimovibile quindi rimovibile in questo modo basta fare un movimento farà un click con questo pulsantino si sgancia si raggancia molto semplicemente e poi il mitico display display che ci segnala ovviamente lo stato della ricarica la potenza di aspirazione che può essere aumentata praticamente facendo un semplice click va su tre livelli con un altro click si spegne a meno che voi non disattiviate il lucchetto quindi per funzionare dovrete assolutamente tenere premuto il grilletto ma molto più comodo mettere un bel lucchetto premere una volta e lui non si ferma mai potenza minima massima potenza media potenza non è tutto perché abbiamo ovviamente il tubo grigio e gold è veramente bello powered by dreamy innovation lab veramente bello 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 e questo stand favoloso si sono inventati proprio uno stand semplice perché è plastica ma tremendamente comodo perché ci sono tre accessori in dotazione due di definizione quindi per andare vicini vicini alle cose più piccole più lontane magari dove ci arriviamo peggio sono cannalini stretti ma poi abbiamo anche questa spazzola che è motorizzata e ha su questo lato un led azzurro e questa indicatissima per gli spazi piccoli dove è difficile arrivare con le scope principali ma anche per divani dove c'è da rimuovere i peli degli animali grazie al led si vedrà tutto molto più chiaramente un kit per lo smontaggio e la manutenzione e poi un sacco da due litri e mezzo di ricambio uno è già contenuto nel lab che vi farò vedere e poi arriviamo alle spazzole principali la multisuperfice è questa qua è dotata di tante luci ma la cosa bella è che queste luci ragazzi sono di un azzurro blu veramente utilissimo vi farò vedere in questo video la loro efficacia sulla visualizzazione dello sporco e poi questo tubo flessibile le ruote gommate non hanno un grandissimo grip sono lisce fondamentalmente ma viaggiano molto molto bene vi danno l'affidabilità di cui avete bisogno abbiamo una seconda spazzola questa è utile per i pavimenti duri quindi se avete un pavimento duro in casa utilizzate questa si sgancia nella maniera più classica c'è un pulsantino si rimuove questo si toglie il rullo e si pulisce questa spazzola non ha i led mentre l'altra torniamo un attimo sull'altra eccola qua vedete ha proprio la conformazione anti aggrovigliamento quindi parte più morbida setolosa parte più rigida e per sganciare il rullo dovrete fare questa rotazione qua vedete già si è staccato e si rimuove si pulisce e si rimette si richiude e si riparte e questo è l'hub una bellissima colonna di design guardate bello il colore che ricarica la batteria della scopa dovremo inserire la scopa all'interno di questa colonna qua e poi ricaricherà la batteria non sarà possibile togliere la batteria e metterla in carica ha una potenza di 1050 watt quindi capite bene emetterà un forte rumore aspirerà tutto lo sporco contenuto in questo serbatoio qua pesa abbastanza più di 5 kg ha un pulsantino nella parte alta per azionare l'autopulizia ma come si trova il sacchetto dello sporco quindi sembra che non ci sia ve lo faccio vedere non c'è dove si trova si trova qua dentro perché questo sportello è calamitato basterà fare questo movimento e qui troverete il primo sacco in dotazione già montato per la raccolta sporco da due litri e mezzo anche questa colonna ha un filtro che va cambiato periodicamente e dove si trova si trova qua ed eccola qua la scopa tutta montata risulta così anche leggera un chilo e 670 grammi si snoda bene e come vi ho detto ha i led questi led celesti azzecatissimi si vede tutto nell'oscurità questo tubo è fisso non abbiamo possibilità di inclinarlo quindi dovrete andare sotto piegarvi per arrivare nelle zone un po più difficili ci sono alcune scope che hanno proprio il tubo flessibile non è il caso di questa l'ho trovata poco rumorosa quando l'ho accesa anzi ve la faccio sentire non è una scopa rumorosa il rumore è tollerabilissimo anche alla massima potenza a proposito di potenza vi dico che ha una batteria composta da 7 celle da 2900 mAh e la durata è variabile ovviamente si tratta di 15-18 minuti nella modalità più estrema la modalità con più aspirazione 40 minuti nella modalità classica e 60 minuti nella modalità meno potente quella che emette meno rumore ma aspira ovviamente con meno potenza questa lini z10 station è una scopa potente ragazzi perché riesce a fare fino a 108 mila rotazioni per minuto con questa spazzola e che significa che vi porta via praticamente quasi tutto la modalità è una scopa potente una volta che avrete fatto la pulizia una volta che questo contenitore sarà pieno vorrete ricaricarla dovrete necessariamente passare dalla station dalla questo hub posizionate la scopa all'interno di questo cilindro vedete stand alone sta in piedi non c'è pericolo che cada perché la base è bella grande è gommata ha un ottimo grip e la ricarica avviare in circa tre ore e mezzo da 0 a 100 qua abbiamo un pulsantino con un led acceso e questo è il pulsante magico da premere per avviare l'autopulizia la basetta è bella grande rende l'autosvuotamento praticamente bello solido è impossibile che vi cada e in questo punto qua troviamo un filtro che può essere ovviamente sostituito e per metterla a riposo oppure per avviare una pulizia un autosvuotamento guardate qua dovremo semplicemente agganciare la scopa qui alla basetta e dopo di che beh partirà ovviamente la ricarica perché la basetta deve essere collegata alla corrente per funzionare quindi abbiamo la possibilità di vedere lo stato della ricarica premendo su questo pulsante indicatore della ricarica infatti la percentuale sta salendo è il momento di fare l'autopulizia quindi vado a premere questo pulsante e parte ecco qua ha già finito quindi pochissimi secondi per togliere tutto lo sporco dal contenitore da questo serbatoio e come per magia tutto lo sporco è stato depositato in questo sacchetto siamo arrivati al capitolo prezzo quanto costa dreamy z 10 station di listino 499 euro sempre in offerta o meglio spesso in offerta intorno ai 429 euro se considerate che prima c'erano le scope elettriche per aiutarvi nella pulizia della casa e adesso c'è anche la stazione di svuotamento automatico che oltre a farvi risparmiare la fatica di andare sempre a svuotare questo recipiente che non è grande vi dà anche un elemento di design vi dà anche la possibilità di cambiare il sacco nella raccolta polvere che è già incluso nella confezione una volta ogni tre mesi questo cosa significa? significa che per voi fare le pulizie di casa sarà ancora meno faticoso ancora meno snervante risparmierete tempo e avrete oggetti sempre più belli una scopa molto funzionale che oltre ad aspirare bene ha anche quei led stramaledettamente fatti bene che vi consentono di individuare ogni tipo di granellino di polvere nell'oscurità fatemi sapere se vi piace se l'acquisterete vi lascio tutti i link qua sotto quindi non vi perderete la migliore offerta di questa Dreamy Z10 Station grazie di tutto noi ci vediamo su tutti i social ma continuate a seguire anche Offerte Smart Italia su Telegram e su Facebook ogni giorno pagina ricchissima di segnalazioni della migliore tecnologia ci sono anche i cellulari con codici sconto e offerte last minute sotto costo dategli un'occhiata alla prossima ciao